In chiusura a Castellammare del Golfo ancora un fine settimana dedicato alla cultura e questa volta sarà di scena il Fuori Festival Contaminazioni edizione 2023 il cui obiettivo è quello di rivalutare alcune zone particolari di Castellammare, in questo caso quella di Ferromercato. Ci spiega tutto una delle anime di questa manifestazione ma anche curatrice, Mariangela Galante. Un Fuori Festival perché la rassegna a cui ormai i castellammaresi sono abituati si svolgerà a ottobre. Abbiamo deciso di destagionalizzare il festival perché ci sembrava che nel mese di luglio venisse un po' sciolto all'interno di un'estate castellammarese molto turistica. Non c'era la possibilità di approfondire bene le tematiche, di avere quel rapporto che a noi piace avere con il pubblico e con i nostri autori. Due appuntamenti solo di letture e presentazioni di libri senza il contorno di laboratori, concerti, teatro che solitamente accompagna il nostro festival. Avete scelto un posto da noi castellammaresi non abbandonato, dimenticato. Vi siete spostati qui perché anche uno dei vostri leitmotif è quello di rivalutare e di riappropriarci della nostra città, di zone della nostra città. Assolutamente Riccardo. Noi siamo di Castellammare, il festival è castellammarese e ha anche questa valenza, cioè andare a riscoprire luoghi meno frequentati. Ovviamente adesso via Cruciferi è uno degli snodi nevralgici di Castellammare turistica, così come la zona della Chiusa, dove abbiamo sviluppato le nostre letture erranti, come la zona della Matrice. Due anni fa ci siamo spostati al castello di Baida con lo stesso intento, cioè fare riscoprire ai castellammaresi, al pubblico di contaminazioni, questi luoghi, come dicevi tu, dimenticati, talvolta purtroppo quasi abbandonati. Ci teniamo a sottolineare questo fatto, cioè la bellezza ha un valore in sé, non deve per forza essere sfruttata da un punto di vista commerciale, perché poi la perdiamo, perde metà del suo valore. Noi veniamo qua a presentare due libri, uno è di Maria Grazia Calandrone, è entrata nella Cinquina dello Strega, Dove non mi hai portata, che racconta una storia dolorosa e potentissima della sua vita, del rapporto con la madre naturale, e l'altro invece è di Evelina Sant'Angelo, Il sentimento del mare. È un libro, anche questo, molto personale, ed è un libro molto legato a Castellammare, che lei chiama Il paese sul golfo. Questa ufficialmente è via mercato, ma come dicevi tu, poc'anzi, alle ferri, per chi è del luogo. Qua verrà liberato dal traffico e anche dal parcheggio, semplicemente per le ore che ci servono per la presentazione. Domani sera cominciamo con la presentazione del libro di Maria Grazia Calandrone e godremo di questo incontro che sarà presentato da Rossella Barbara e Antonella Fontana. Domenica alle 18.30 invece incontro con Evelina Sant'Angelo, presentato da me e dal professore Gaetano Stellino. Vi aspettiamo qua numerosi. Ci tengo anche a precisare che l'iniziativa è patrocinata anche dal Comune di Castellammare, che ci accompagna in questa avventura e che spero ritorni a sostenere la cultura e le iniziative culturali in questo paese, come era già successo prima. La lettura è sempre un viaggio all'interno di sé e quindi incontrare delle autrici, in questo caso sono due donne, è sempre un'esperienza arricchente. È un modo per guardare la realtà che ci circonda con occhi diversi, un'esperienza personale e profonda, in particolar modo con questi due libri. Dopodiché l'esperienza della bellezza, l'esperienza di questo paese che è da rivalutare, da riscoprire e da curare. Un appello è anche quello a curare il nostro territorio, i luoghi in cui viviamo. Questa zona così bella in realtà è quasi abbandonata, va riqualificata nel modo migliore. Non ci vuole neanche tanto. Ci vogliono occhi per vedere la bellezza intorno a noi, al di là di quello che la pubblicità ormai in modo stereotipato ci propone.